La massofobia è un pregiudizio, è un pregiudizio che hanno coloro che non ci conoscono, che vedono complotti massonici un po' ovunque. Noi non complottiamo, siamo cittadini che al momento dell'ingresso nel Grande Oriente d'Italia giuriamo sulla Costituzione della Repubblica Italiana, su quella carta costituzionale che venne scritta da un'assemblea, un'assemblea dei 75 che era presieduta da un massone, si chiamava Meuccio Ruini. Noi crediamo alla carta costituzionale della Repubblica, a quel testamento spirituale di 100.000 morti, come lo definì Piero Calamandrei in una magistrale lezione agli universitari di Milano. Noi crediamo alla Costituzione della Repubblica Italiana e siamo cittadini come tutti gli altri.